Con la A, 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 la casetta si farà Con la E, 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 la casetta non sta in più Con la I, 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 la casetta viene così Con la O, 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 la casetta è sotto il sol Con la U, 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 la casetta si fa blu Con la A, 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 io saluto il mio papà Con la E, 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 ti saluto con il pie Con la I, 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 ti saluto con un sì Con la O, 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 ti saluto con un no Con la U, 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 ora mi saluti tu Con la U, 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 U